E' quello che voglio sapere, esserò convinto e convincente. Certo che lo eri, eri un uomo dolcissimo, mi stavi vicino, eri così intenso e io poi invece ero così stronza da approfittarne. Beh, non abbiamo mai parlato così quando stavamo insieme? No, non è possibile, quando ci sei dentro non puoi parlare con tale lucidità, quella che abbiamo noi dopo anni. Ma che dovevo fare io per non fartene approfittare? Avresti dovuto usare delle tattiche. Sì, delle tattiche? Sì, delle tattiche, io penso che ci siano delle tà in cui occorre usarle, ma servono per far sentire l'altro indispensabile, necessario. Vabbè, io le tattiche non le ho mai usate, non credo che usero mai, questo è certo. Era questo quello che volevi sapere? Se continuiamo così a camminare, torniamo a Modena. Vabbè. 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 Ma lì si tira! Prova con questo! E spara di lo a chiodo! Guarda che per me ne ha rizzo prunaghe! Si 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 ma dai non mi fate ridere! Dai bagliamo? Ma chi è sto deficiente? Sono pure! Si ma! Di un po' con la testa! Fuori da camela! Oore! Ma cosa fai? Si ma! Ma siete impazziti! Per un paio non lo prendevo in testa! E lo sapete se l'ho beccato in testa che succedeva!? Che mi ammazzavate! Prendela con lei. È stata lei a gettarla. Questa non è mica normale. Ora chissà cosa si inventa questa. Ma cosa sta dicendo? Ho capito, non ha importanza comunque. Vieni, sta con me. I lettori qua, dal piacere. Ok, adesso ti siedi nel mio posto e controlli che nessuno tocchi i lettori. Io esco un momento. Ci siamo in tesi? Sì. Bene. Grazie. Quanto ci fa? Ora ve la faccio fare io una bella esperienza. Offro che cuffie. Sarai ori? Distribuisci un attimo questi. Un paio ciascuno. Cosa è rosa. Su, veloci. Ecco, mi raccomando, metteteli bene in profondità. Buongiorno. Buongiorno. Ha chiamato la professoressa Carletti che non viene. La verifica si farà la settimana prossima. Andate tutti in palestra. C'è il professor Giannotti che la sostituisce. Arrivateci ragazzi. Cosa aspettate? Siete diventate tutti sordi? Scusi, ma cosa ho detto? Altra un'altra parte. Ragazzi, ti aspetta. Vai giù da sull'interno alla boteca e infatti da 10 lire di conserva. Tiè. Piedi tu, giardini. Oh, buono. Vieni qua! La ciotola è su un dirma, è solo il cinglio! Ora ma sti parola! Se non paghiamo ci dobbiamo contentare di quello che ci danno. Perché non paghiamo? No! Allora siamo veramente poveri. Ora vieni a lavare la puzza. Ma che è? Non è stato buono i salvatori? Ma che c'è? È venuto? No, la zia è venuta. Si è fuggato qui? No, ma è morto per la polvere. E te ne bella poca? Che Salvatore non sia buono. La polvere! Oh marrone, ma chi ci aiuta? La polvere. Mamma mia quanta polvere. Ma ci pensi? Ma ci pensi? Ci pensi? Ci pensi? È troppo assaggio, ma posso mai farlo? Immagare questo cosa cosa? Ma non si groups. Tempo 6Alli. Torni a cerchierò che vediamo il mio flatto. Hociam? Hociam? Nesiam? E tu mamma? Ma che fa? Calma! 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 Calma da creatura mia!